mesi di esplorazioni tanta pazienza e amore per la natura e la storia e alla fine i volontari dell'archeoclub d'italia hanno visto premiata la loro dedizione hanno scoperto un tratto di acquedotto antico incassato nella roccia dei monti lattari in campania la scoperta è stata fatta nel territorio di orzano frazione del comune di lettere in provincia di napoli una grande opera di ingegneria scavata nella roccia per una novantina di centimetri circa seguendo le curve di livello della montagna il tratto scoperto fa parte di una rete alla quale avrebbero dovuto appartenere ben tre acquedotti guardate che capolavoro di ingegneria è il punto di congiunzione esattamente questo i due acquedotti questo qui in muratura che incassato perfettamente nella roccia e quello proveniente dal ponte canale si intersecavano in questo punto poi certamente resterà da stabilire se di origine romana se medievale se borbonica fatto sta che un'opera di questa portata con questa natura accidentata non è non è facile da realizzare ed è un'opera costosissima quindi non poteva essere realizzata ad opera dei privati ma solo per una reale esigenza di stato